Ciao a tutti, sono tornata con un altro video ebbene si, mi sono arrivati dei pacchettini, non vedo l'ora di aprirli insieme a voi mi sono già facilitata nell'apertura così da non rendere il video troppo lungo allora, voglio iniziare da questo pacchettino che è bello pieno questo qua i link ve li lascerò come sempre giù in basso nell'info box ok, ce l'ho fatta allora, cosa c'è? allora, pacchettino vuoto allora, uh che belli allora, da questo venditore mi sono arrivati questi washi slim avevo già ordinato da questo venditore tempo fa naturalmente con altre fantasie e le fantasie sono queste allora, c'è questa qui dove ci sono tutti questi micetti che sono veramente piccoli piccoli molto adatti per appunto fare i giorni ve ne apro uno così che si capisce bene ma la fantasia comunque è quella che si vede nel cartoncino ecco, sono questi qua veramente piccoli piccoli ho messo anche al contrario, bene veramente piccolini e comunque di prodotto ce n'è tanto poi c'è questo qui tema cigni bellissimo anche lui eccolo qua poi c'è questo qui a tema farfalle comunque primaverile qui vedo queste scritte non saprei perché non saprei questo ve lo apro allora eccolo qua ecco qua tutte le farfalle se metto a fuoco mi fa anche un favore dai, per favore niente proviamo così ecco, forse così si vede meglio poi questo qui a tema foglie un po' ecco autunnale eccolo qua poi questo qui a tema fiori che belli veramente belli eccoli qua i fiori poi questo qui che sinceramente non aveva un senso più di tanto però mi ricordava un po' ecco il mare non so perché sinceramente l'ho preso comunque si utilizza il modo si trova non c'è problema fatto così molto semplice però comunque da colore poi questi qui a tema marino allora questo qui dove ci sono conchiglie e coralli eccolo qua se metto a fuoco e poi questo qui che ci sono le meduse i pesciolini i polipetti e così via sempre un po' a tema mare poi comunque sono anche carini perché sono tutti ben impacchettati dentro queste bustine con il loro cartoncino veramente carine queste bustine ed ecco qua questi sono diciamo tutti i washi che mi sono arrivati ok metto tutto qua poi il prossimo pacchettino allora cos'è ok questo è un anellino che ho dovuto cioè praticamente non è regolabile però ecco bisognava scegliere la misura più adatta e ho preso il numero 8 che spero mi va bene sì mi va bene anche qua no sul mignolo è grande sul pollice no e sull'indice quasi comunque la misura 8 non ho proprio ecco le dita piccolissime sono un po' tondine in un certo senso ho preso la misura 8 ho fatto così con tutte queste stelline veramente carino mi piace molto semplice però mi piace molto semplice delicato non sono ecco di quei anelli grandi in un certo senso pacchiani comunque bello mi piace i prezzi mi dispiace ma proprio non me li ricordo quindi non posso aiutarvi poi apriamo questo che è brutto arrivato con questo pezzo di scotch veramente orribile ok qui c'è una spugnetta per il make up ne avevo già acquistata una in passato me l'ho trovata bene adesso ne volevo acquistare una più grande color nero fatta così e devo dire che è veramente morbidissima cioè wow complimenti troppo morbida morbida sembra quasi un antistress si sente anche rumore comunque ok e niente questa la voglio provare questa mi sembra di averla pagata intorno ai 70 centesimi se non ricordo male comunque la proverò e poi vi farò sapere in un video recensioni come sempre comunque mi piace bella morbida non è male ora l'ultimo pacchettino purtroppo oggi me ne sono arrivati pochi ma credo che un po' rallenterò perché ho veramente tante cose quindi devo anche iniziare un po' a sistemarle questo qua che già straborda il tutto di più allora no allora avevo ordinato questi due wash questi due paper tape però io non pensavo che erano di questa misura qua pensavo che erano più piccoli con gli acco da un centimetro un centimetro e mezzo no da due da tre da quanto cappero sono e vabbè pazienza ormai sono arrivati comunque c'è questo verde con il pratticello con qualche fiorellino questo con il cielo le nuvole e poi ho ordinato questi stickers che sinceramente sono arrivati proprio messi male cioè questi dovrebbero stare qua in realtà stanno qua credo che la recensione non sarà molto positiva comunque avevo preso questi wash perché c'erano delle pecorelle delle arieti degli uccellini un po' primaverile poi c'erano degli alpaca così però sinceramente guardate qui non ce n'è uno al suo posto qui praticamente è vuoto tutti si sono spostati poteva sinceramente impacchettarli meglio il venditore quindi non penso che la recensione sarà più di tanto positiva non è per essere cioè non voglio essere troppo pignola però neanche c'è un minimo di attenzione ecco solo quello comunque i wash mi piacciono tantissimi oggi gli ordini si gli ordini gli acquisti i pacchettini l'ho detto tutti erano pochi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi invito a iscrivervi al mio canale lasciarmi un bel pollice in su attivare la campanellina così da non perdere i prossimi video così che vi arriva la notifica spero che questo video vi sia piaciuto i link vi lascerò qua giù in basso nell'info box un bacione grande grande al prossimo video ciao